Il suo avversario all'angolo rosso al peso di 80 kg e 700 in battle cil nero oro e con un record apprezzionista formato da 8 incontri disputati. 8 vittorie per lui, una delle quali per capo. Al suo angolo Paolo con Fabio Sperandio per la BBT Production da Roma Italia. Adriano Sperandio! Grazie a tutti! E' la prima ripresa, first round! La guerra ha fatto il fronte! Grazie a tutti! 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 a tutti! Grazie 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 a tutti! ! a tutti! 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 Sì, 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 Sì! Sì, Sì! Sì, 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 Sì! Sì, Sì, Sì! Sì, Sì!